Direttore Michele Albanese, nasce l'associazione Giovani BCC, un'ulteriore attenzione verso i giovani? Sì, era necessario, credo, porre l'attenzione sui giovani. I giovani è una categoria che purtroppo la nostra banca preoccupa in modo particolare. Ci stiamo rendendo conto, così come abbiamo detto nelle varie circostanze, che la problematica legata certamente alla crisi, ma certamente anche a questa crisi sociale cui stiamo attraversando, investe in modo particolare i giovani. E allora la nostra banca si è fatta promotrice di un'idea che vuole sviluppare e cercare di far uscire quelle capacità che i giovani della nostra zona hanno. Noi siamo certi che ci sono dei ragazzi, delle persone che hanno le capacità sia professionali, sia tecniche, sia logiche che in questo territorio possono certamente essere espresse in modo veramente importante. Ed nasce così, proprio forse per scherzo, forse per volontà di aggregare questi ragazzi, l'associazione Giovani Banca di Credito Cooperativo, che nasce con la finalità di un circolo sociale che vorrebbe emulare quello del circolo Banca Credito Ponte Bruno, ma che è tutt'altro. È un circolo che cerca di mettere insieme i ragazzi e per farli ragionare su un'unica logica, cercare di guidarli attraverso la nostra struttura, attraverso le strutture che a noi fanno capo. Se i ragazzi sono guidati, se i ragazzi sono seguiti, io credo che tutti quanti potranno ottenere dei grossi benefici da questa iniziativa. Vedere dei ragazzi così allo sbando, vedere dei ragazzi senza una rotta, vedere dei ragazzi che non hanno un loro capitano che li guidi, e allora credo che in questo momento stiamo veramente vivendo un momento di difficoltà oggettiva. E noi speriamo che attraverso questo strumento possiamo dare delle speranze, casomai ai ragazzi, delle aspettative, certamente non è nostra ambizione chiedere la risoluzione del problema dei giovani, ma certamente credo che se facciamo stare, facciamo ragionare i giovani, così come si ritrovano, con le loro capacità che hanno, credo che certamente daremo un importante messaggio al territorio del Vallo di Diano.